Macardini 5 Stelle che praticamente è già a posto con le firme ma le hai presentate un attimino dopo perché proprio volete fare il pieno. Senti, siete tutte donne, forse è la prima volta che in Italia accade che a sfidarsi non solo tre uomini ma tutte donne. Che effetto fa? Ma sinceramente è un ottimo effetto, un po' che di donne secondo me è una cosa fantastica, è un obiettivo valido, un bel messaggio a tutta la cittadinanza. Senti, rispetto magari ad altre amministrazioni, quelle di Mofalcone come molte altre del Fulimente Giulia non hanno grandi problemi, i conti sono a posto. Come intendente cambiare le cose a Mofalcone se riuscite appunto a salcare la vetta? Allora, noi siamo una bella squadra, bella unita perché logicamente un sindaco non è tuttologo, quindi mi apporterò delle competenze di tutte le persone con le quali abbiamo steso il programma. In due anni abbiamo lavorato parecchio con tutti i cittadini perché noi lavoriamo per la democrazia partecipata, quindi puntiamo sul fatto che il cittadino si renda attivo, che si renda conto di prendere in mano le sorti della propria città e quindi abbiamo delle persone che hanno lavorato molto per conoscere perché non siamo mai stati dentro all'interno delle istituzioni, quindi è normale che abbiamo dovuto per forza aiutarci a persone più competenti che hanno in mano il bilancio e stiamo lavorando bene, abbiamo visto che ci sono molti sprechi e con dei soldi che sono stati spesi, dirottati in una certa parte possiamo benissimo utilizzarli per cose prioritarie per la città di Mofalcone.